Il D-Day sta per arrivare. Mercoledì prossimo 7 aprile ci sarà il ritorno alle lezioni in presenza fino alla prima media in zona rossa e fino alla terza media in zona arancione. Per gli studenti delle superiori presenza del 50% fino a un massimo del 75%, gli altri in didattica a distanza. La ripresa scolastica implica un nuovo piano di potenziamento del trasporto pubblico locale. Quali le soluzioni? Le abbiamo chieste al presidente di TUA, Giulianti. Le circolari che ci sono state fanno riferimento ad una situazione che è assolutamente sovrapponibile al momento della chiusura nella scorsa riapertura in presenza. Quindi noi abbiamo sostanzialmente, dobbiamo replicare lo stesso schema con doppia entrata e doppia uscita delle scuole. Questo significa che il numero di mezzi e anche uomini sono implementati rispetto ad adesso? Assolutamente sì, ci sarà un aumento consistente anche perché la doppia riapertura comporta l'utilizzo di mezzi aggiuntivi e noi abbiamo ripristinato la situazione precedente, quindi con l'intervento di privati abbiamo riattivato gli interdinali. Se tutto quanto quello che era il sistema già tarato e che aveva dato buoni risultati verrà riproposto alla riapertura delle scuole. Presidente, parliamo anche di screening perché un recentissimo ordine del giorno del Comune di Pescara ha fatto richiesta alle proprie partecipate di effettuare lo screening di massa sui dipendenti di queste partecipate e poi tramite la Regione è stato chiesto anche di farlo sui vostri dipendenti. Con noi sono arrivati un po' tardi perché noi da circa un mese, un mese e mezzo facciamo sistematicamente screening di massa con tamponi a tutti quanti i dipendenti tua. Abbiamo un sistema che ha funzionato per cui volendo siamo a disposizione qualora il Comune ci volesse contattare per offrire quelle che sono perlomeno la nostra organizzazione, il modo in cui ci siamo organizzati per la verità. L'ultimissima, si parla anche di vaccini, la categoria degli autisti, è prevista qualcosa in un prossimo futuro? Noi abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere che venga inserito quella degli autisti tra le categorie che debbono avere un privilegio rispetto ad altre categorie che onestamente noi crediamo siano meno esposte. Comunque stiamo anche valutando e lo faremo prossimamente di chiedere alla Regione e all'Alz di avere i vaccini perché possiamo anche organizzarsi in proprio attraverso i medici dell'azienda e attraverso strutture con le quali siamo collegati. Grazie. Grazie.